Allora, ascoltami bene, quando parli devi contribuire al discorso, non è che sei una macchinetta che dice Ah, sì, interessante, ok? Io ti... Oh, adesso vengo di là... Io vengo di là, ti strozzo. E viace, e viace. Va bene. No, non fate la guerra. Adesso è 1v1, 1v1 più atteso della storia. Ricordate il nemico comune. Se viene le butto il bicchiere dell'acqua addosso. Ma mi sa che sta venendo veramente. No, sta arrivando, è finita. Laio è finita per te un po', è finita. Non sta venendo. Ehi, vai via, fina, perché... Oh, adesso... Ti tiro l'acqua, eh. Ti tiro l'acqua, eh. Ti tiro l'acqua, eh. Datti una svegliata, cammina. Ti tiro l'acqua, eh. Ti tiro l'acqua, eh. Ti tiro l'acqua, vai via. No, 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 ti tiro l'acqua. Stanno a fare i gavettoni, stanno a fare i gavettoni di brutto, ragazzi. Cammina. Guarda, poi il deficiente adesso è qua, guarda, ma la prendo a spadate, la prendo. No, come? No. Dove siamo rimasti? Ah, sì, ma Piedici, è ancora la tua roba in terra. Eh, sto andando, sto correndo, ho messo fatta a piedi, ho preso la barca adesso.